Ieri 20 settembre 2023 è finito l'iter legislativo per l'approvazione di un disegno di legge che inserisce lo sport all'interno della Costituzione. La Camera ha approvato la modifica dell'articolo 33 inserendo questo nuovo comma. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Considerando che la Costituzione è stata approvata nel 47 e solo oggi nel 2023 si riconosce l'importanza dello sport, mi fa un po' riflettere, ma comunque è meglio tardi che mai. La Costituzione da oggi riconosce il valore dell'attività fisica, ma non ne determina un diritto e sarà nostro dovere e della classe dirigente rendere lo sport per tutti e soprattutto una forma di unione sociale, partendo dalle persone più in difficoltà e delle periferie urbane. Quindi finalmente hanno riconosciuto l'importanza dello sport all'interno della società come un qualcosa che unisce e rende la vita del cittadino più di qualità. Ma ci voleva realmente un governo di destra per riuscire a capire una cosa del genere? Ragazzi fatemi sapere che cose ne...